Nuova puntata della telenovela sulla scelta del direttore artistico della Scuola Civica di Musica di Nuoro che aveva visto una dura presa di posizione di alcuni possibili aspiranti al ruolo, primo tra tutti Cristiano Porqueddu. I musicisti avevano protestato per la clausola che imponeva al candidato alla direzione di aver ricoperto un analogo ruolo in una scuola di musica riconosciuta dalla regione Sardegna. Un paradosso definito di Barenboin dal nome del direttore d'orchestra della Scala di Milano che secondo il bando del comune di Nuoro non avrebbe potuto partecipare alla selezione. Una battaglia contro una chiusura al mondo senza confini geografici della musica conclusosi col ritiro del bando da parte dell'amministrazione comunale. Bando che però è stato riproposto in questi giorni, che contiene a detta dell'associazione un'altra clausola inaccettabile, incompatibilità tra docenza e direzione. In particolare denuncia l'associazione che coordina i musicisti non si tratta di una incompatibilità generica che potrebbe anche essere giusta ma che risulta operativa solo per i docenti della Scuola Civica di Musica di Nuoro. Chiunque altro potrebbe fare il direttore e scrivere una nota all'associazione dei musicisti soprattutto se è stato assunto a tempo indeterminato in un conservatorio o se ha già un altro lavoro. Gli unici a dover rinunciare in caso di vittoria del concorso o all'incarico di direzione sono solo gli insegnanti della Scuola Civica di Musica di Nuoro. Il gruppo di musicisti, provenienti da tutta Italia, che dal 12 novembre è alla guida del blog sta procedendo alla stesura di un'esposta alla Procura della Repubblica. I musicisti ricordano che il bando scade il 18 gennaio 2013 e nel frattempo auspicano che ci possano essere importanti novità.